Stadio Alfonso Virgilio di Campofranco, ventunesima giornata del massimo campionato regionale siciliano La Nissa di Mister Bognanni, radice dalla sconfitta per 2-1 al Bruco Leri di Favara E' l'ultimo turno ospita, un marineo ferito dalla sconfitta Casalinga per 3-1 contro l'Unitas Sciacca Dirige l'incontro insieme Giuseppe Raso della sezione di Messina Coadiuvato dai concittadini Calandra e Calarese 4-3-3, questo l'abito scelto da Mister Bognanni che schiera a Keba tra i pali Di fronte a lui Priola, Conti, Santa Maria e Bisogno Brace, Caronia e Camarà Comporre la cerniera di centrocampo, Illario e Rizzi Alle spalle del terminale offensivo Mattia Reducci Passiamo dunque al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Salvatore G Saranno gli ospiti del marineo a gestire il primo possesso Attaccando da sinistra verso destra dei vostri videoschermi E lo faranno poco dopo il quarto d'ora con la punizione di Rama Che trova il tentativo profondo da parte di Maggio La torsione però dell'ex Canigati non inquadra lo specchio e la porta difesa da Keba Ancora Marineo al minuto 18 Lo specialista è Francesco Maggio Prova ad andare con questa sassata smanaccia In qualche modo in corner Keba Che però verrà trafitto al 26esimo Si chiude in un vicolo cieco bisogno Allora la ripartenza del marineo Spalanca l'orizzonte a Sanjong Che buca i guantoni di Keba In diagonale e porta in vantaggio il marineo All'Alfonso Virciglio di Campofranco E 0 a 1 Prova ad incassare il gancio La Nice a ribattere con Rizzi Che si libera bene tra le linee Il suo mancino però è facile Preda da parte di Sesai Al 35esimo si muove male La linea difensiva di Mister Bognanni Allora Cocuzza Una buona occasione col mancino Chiamato agli straordinari Keba Al 43esimo prova ad illuminarsi Allora Illario da calcio piazzato Totalmente sballato Il suo destro sorvola A trasversare la porta di Sesai Ma poco prima il duplice fischio Grandissima occasione Sul mancino di Rizzi Si esalta però L'estremo difensore del marineo Si chiude così La prima frazione di gioco Su questa rete Annullata giustamente A Tancimino Duplice fischio Del direttore di gara Raso e squadre Che guadagnano gli spogliatoi Sul parziale di 0 a 1 Decide sin qui la rete Al 26esimo di San Jong Inizia con un cambio La ripresa per la Nissa Dentro Mazzoni tra le fila Nissene al 49esimo Prova ancora Illario A fare tutto da solo Si muove in orizzontale Scaglia il destro Dalla distanza ancora una volta Impreciso al 52esimo Però ci penserà Mattia Retucci Corner dalla destra Addomesticato al numero 9 Mancino Che bacia il palo Prima di infaccarsi In rete Alle spalle Di Sesai Ristabilita la parità Del punteggio Con questo Euro goal Di Mattia Retucci All'Alfonso Virgilio Di Campofranco Al 69esimo Richiama in panchina Rizzi Dentro Pardo Sarà la mossa vincente Del mister Bognanti Di partenza Fulminia Di Camara Che innesca Retucci Sulla propria Parallela Corre veloce Al suo posto Entra Capitano Apriolo Al 94esimo Accade L'imponderabile All'Alfonso Virgilio Cross dentro Di Bognanni Per la testa Di Licastri Che sbuca Tra una selva Di maglie giallorosse E riporta In parità Il Marineo Che beffa Per la Nissa Guarda solo il pallone Che va insaccarsi Alle sue spalle Dunque Finisce così Due a due All'Alfonso Virgilio Di Campofranco Marineo A tempo scaduto Che agguanta Un punto Ferma al palo Invece La Nissa Che andrà andata a segno Con le reti Di Retucci E Pardo Ribaltando l'iniziale Svantaggio segnato Da Sagnong Un saluto Amici appassionati Appuntamento Alla prossima